Musica Cari amici di quotidiano.net, bentornati per parlare di Juventus. La formazione bianconera dopo le tre sconfitte consecutive incassate in campionato è un bivio. Se perde sabato a Cesena, tutto esaurito allo stadio Manuzzi, grande attesa per questa sfida, Del Neri rischia di saltare. C'è Paolo Rosato, buongiorno Paolo, collega della redazione quotidiana.net che segue da vicino le vicende del mercato. Qualora questa pessimistica previsione si avverasse, che cosa accadrebbe nell'immediato Paolo? La bianconera Cesena potrebbe essere il capolina come giustamente hai detto tu per Del Neri. Cosa potrebbe accadere? Se dovesse vincere Del Neri potrebbe andare fino alla fine del campionato per nove restanti giornate e poi lasciare a fine stagione. Se invece dovesse arrivare una sconfitta, ci sarebbe subito un traghettatore d'eccezione, perché non è un caronte qualsiasi, che è Marcello Lippi, che porterebbe la squadra fino a fine stagione con la rassicurazione di rimanere l'anno prossimo come direttore tecnico e insieme a lui si aprirebbe uno scenario importante, perché se al 30 giugno non dovesse essere radiato Luciano Moggi, Cosa molto probabile perché ricordiamo la giustizia sportiva che ha squalificato per cinque anni Moggi, sanzione che scade il 30 giugno, con proposta di radiazione, per quanto attiene la proposta di radiazione ha stabilito che ci saranno due gradi di giudizio, quindi è molto probabile che si vada ben oltre il 30 giugno. Quindi diciamo così, con l'IP traghettatore fino a fine stagione per l'anno prossimo ci potrebbe essere questo scenario, l'IP direttore tecnico con Moggi inserito nei quadri dirigenziali, probabilmente senza tesseramento FIGC, perché rientrerebbe in maniera diciamo così un po' soft, e allora si andrebbe a cercare un tecnico ovviamente gradito sia a Lippi che a Moggi, e le ipotesi sarebbero due, una è quella che porta Luciano Spalletti che è sotto contratto con la data di San Pietroburgo ancora per due anni, a 5 milioni di euro a stagione, 4 di ingaggio più 1 per i premi, quindi un contratto blindato, ricordiamoci pure che lo Zendis sta per prendere Criscito dal Genoa, ha offerti 20 milioni di euro a preziosi, quindi il giocatore è richiesto da Spalletti, per cui è una situazione un po' particolare, che vedrebbe difficile un biglietto di sola andata per Spalletti da San Pietroburgo a Torino, però è un'ipotesi, diciamo è il primo nome, perché c'è una grande amicizia tra il tecnico di Certaldo e Lippi che è via Regino, per cui due toscani Doc e anche Moggi, è un uomo gradito a Moggi. Se non dovesse arrivare Spalletti l'ipotesi numero 2 sarebbe Francesco Guidolin, attuale tecnico dell'Udinese, un'ipotesi suggestiva perché ricordiamoci che Guidolin fu vicino nel 2004, la Juve, prima che Capello fuggisse da Roma per approdare a Vinovo, e l'arrivo di Guidolin, sempre con Moggi o Mercato sotto il vigile occhio attento di Lippi, l'arrivo di Guidolin potrebbe anche scatenare un clamoroso derby di mercato tra Juve e Inter, perché Guidolin potrebbe tranquillamente chiedere a Alexis Sanchez di arrivare a Torino, Alexis Sanchez che è stato promesso all'Inter, per cui ecco, lo scenario di Guidolin potrebbe portare un interessante viatico di mercato. Bene, mi pare che l'analisi di Paolo Rosato sia stata terribilmente esauriente, e ci dice e ci conferma quanto decisivo sia il passaggio che la Juventus si appresta a vivere a Cesena contro una squadra ringalluzzita, rilanciata dal grande colpo centrato a Marassi, che è costato la panchina a Mimmo Di Carlo, che è stato sostituito da Cavasini, un Cesena più che mai consapevole che la strada che porta alla salvezza passa necessariamente anche da una vittoria sulla Juventus. Saremo a vedere cosa accadrà a Manuzzi, intanto grazie Paolo Rosato e grazie a voi amici ascoltatori per averci seguito. Appuntamento su quotidiano.net